Ciao a tutte! Allora oggi voglio parlare dei sticker per le unghie, in particolare di questi che sono in Deborah Pret-a-Porter e io ho preso questa fantasia zebrata, in realtà ne esistono tantissime attratture che ho venuto qua di fianco. Io li ho messi precisamente 5 giorni fa e sono ancora perfettamente intatti. Ovviamente ora mi sono fatica di tre volte, ho fatto un altro per due e sono ancora intatti. Mi sono trovata davvero bene, ho applicato sopra come dice le istruzioni in top coat, potete usare la stessa top coat che avete, comunque vi trovate bene. Vi lascio il tutorial sul mappicarlo e noi ci vediamo in prossimo video. Ciao! Vado a scegliere la misura e la parte esterna è appunto quella che sarà vicino alle cuticole. Questa è perfetta, quindi vado ad applicarla. Una volta staccato lo sticker lo vado ad appoggiare vicino alle cuticole senza però toccarle e poi vado a schiacciare. Inizio a piegare subito e taglio l'ultima parte. Continuo a piegare l'eccesso di sticker e poi lo vado a limare. E come ultima cosa vado ad applicare un top coat. Grazie.